Grazie Presidente. Ministro, abbiamo ascoltato attentamente la sua relazione sullo Stato della giustizia italiana. Svolgeremo ovviamente alcune riflessioni per il tempo che abbiamo a disposizione, però credo che qualunque riflessione sullo Stato della giustizia italiana non possa ovviamente prescindere dalla considerazione di alcuni fatti di cronaca, alcuni tra l'altro anche imminenti, che ci sembra giusto investire anche il Ministro stesso. A cosa mi riferisco, Ministro? Proprio perché stiamo parlando dello Stato della giustizia italiana. È notizia di ieri che a breve il Tribunale del riesame di Milano sarà chiamato a decidere in merito alla incompatibilità, sulla base di una perizia integrata, sull'incompatibilità del carcere di un pericolosissimo assassino. E mi riferisco ovviamente a tal Mada Kabobo, un clandestino presente nel nostro Paese che ha preso a picconate tre poveri Cristi, un disoccupato, un operaio e un giovane. Siamo a maggio del 2013 e questo criminale, non pazzo, questo criminale assassino ha picconato, al mattino, ha picconato tre poveri Cristi. Il Tribunale del riesame sarà chiamato a decidere circa l'incompatibilità di questo criminale assassino rispetto al carcere con la possibilità, qualora il Tribunale del riesame dovesse accertare questa incompatibilità, che venga mandato negli ex OPG. Dico ex OPG perché, come sa benissimo, dal primo di aprile probabilmente verrà ulteriormente prorogata questa norma scellerata, voluta dalla sua predecessore ministro, ex ministro Severino, rischia di uscire dal carcere e finire in una struttura sanitaria regionale. Ecco, io credo che su questa vicenda, su questa gravissima vicenda, se ciò si dovesse verificare, ovviamente saremmo di fronte al fallimento e alla morte certa e certificata e dello Stato di diritto, come giustamente veniva ricordato prima, e della giustizia italiana. E quindi investiamo lei, ministro, della responsabilità affinché verifichi, controlli essi attivi perché una vicenda come questa, che è una vicenda che rischerebbe di essere veramente una vicenda vergognosa, non si possa verificare. Qua sì che noi avremo la certificazione della morte, della giustizia del nostro Paese. Questa era la prima riflessione che ritenevo opportuno fare. Ministro, io non so se Napoli è più bella di Mosca. Ovviamente sa a cosa mi riferisco. Lei ha scelto di andare a Mosca l'altro giorno. Io credo che lei doveva andare a Napoli. A Napoli si è tenuto un'importante conferenza nazionale dell'avvocatura. E io credo che il ministro della giustizia, in questo momento, in cui la giustizia italiana è al collasso, e lo diciamo in maniera estremamente chiara, i numeri che ci ha dato non sono nulla di più che la conferma, che la giustizia italiana è gravemente malata. È un malato gravissimo e, come tutti i malati gravissimi, non li si può aiutare e curare con delle semplici aspirine, ma li si devono curare con ben altri farmaci. Io credo che lei doveva andare a Napoli, doveva avere maggiore rispetto nei confronti dell'avvocatura, perché comunque l'avvocatura rappresenta un interlocutore importante del sistema giustizia, anche perché a quell'incontro sono uscite alcune soluzioni estremamente importanti rispetto ai problemi che il sistema giustizia ha. Le ricordo che il sistema giustizia Italia coinvolge tutti i cittadini italiani, 60 milioni di cittadini italiani, tutti i cittadini. E noi cosa riscontriamo? Riscontriamo che in questi nove mesi, lei e il suo governo, nove mesi di governo, vi siete occupati e preoccupati solo ed esclusivamente il problema delle carceri. Il problema delle carceri che coinvolge 60 mila cittadini, quindi 60 milioni i cittadini coinvolti nel sistema giustizia, voi vi siete occupati e preoccupati solo di 60 mila, che è il numero dei detenuti. Tra questi 60 mila vi sono 23 mila detenuti che nemmeno sono italiani, ma sono stranieri. E quindi solo il tema delle carceri è stato di vostra competenza. E questa è la certificazione del fallimento di questo governo, del fallimento suo, rispetto a un sistema giustizia, come è stato detto da tutti, che è completamente al collasso. Sabato mattina era a Milano, la Lega ha fatto una docile e civile contestazione nei suoi confronti. Al Tribunale di Milano, per discutere del bilancio sociale alla presenza del Presidente del Tribunale di Milano, Libia Pomodoro, sono usciti alcuni dati interessanti sulla durata dei processi in Italia rispetto alla media europea. E gliele ricordo, perché è uno dei problemi maggiori, uno dei problemi principali, anzi due problemi principali che il nostro sistema giustizia ha, che non avete affrontato pur nella consapevolezza che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Ma un conto è non avere la bacchetta magica e risolvere magicamente i problemi della giustizia, un conto è non occuparsi dei problemi storici, cronici e strutturali del nostro sistema. E mi riferisco alla durata dei processi, all'irragionevole durata dei processi. In quell'incontro a Milano sono state date le cifre della durata media dei processi in Italia. L'è stabilissimo che un processo in Italia giunge a sentenza dopo 3.000 giorni. È una sentenza di primo grado, arriva secondo la media Ocse, dopo 296 giorni, arriva in Italia dopo 586 giorni e nel Tribunale di Milano, che è un Tribunale che funziona efficiente, dove si è investito, dove c'è il processo telematico, c'è l'informatizzazione, c'è la digitalizzazione, siamo a circa 300 giorni. Quindi è un sistema che funziona. I due gravi mali del sistema giustizia Italia. L'irragionevole durata dei processi, ripeto, 3.000 giorni per arrivare ad una sentenza definitiva, e in un Paese come il nostro, che deve recuperare credibilità rispetto agli investitori stranieri, sappiamo benissimo che per rilanciare il sistema economico del Paese serve abbassare la pressione fiscale, ridurre la burocrazia, far sì che le imprese possano dare credito, che le banche possano dare credito alle nostre imprese, e serve un sistema giustizia efficiente che funziona. È già stato ricordato, lo ripeto anch'io, se l'Italia è al 158esimo posto al mondo, secondo la relazione della Banca mondiale della doing business, per quanto riguarda l'efficienza del sistema giustizia, per quanto riguarda la durata dei processi, ben oltre alcuni Paesi dell'Africa, Gabon, Etiopia, è la conferma che il nostro è un Paese che ha un sistema giustizia non civile, un sistema giustizia che non dà giustizia, se dà giustizia la dà in tempi eccessivamente lunghi, e una giustizia che dà giustizia in tempi lunghi è una denegata giustizia. Il problema delle carceri, Ministro, ho sentito da parte sua l'apertura all'indulto, abbiamo sentito dal collega Leva l'apertura all'indulto, abbiamo sentito dal collega Farino l'apertura all'indulto, noi chiudiamo completamente, Ministro, glielo ripetiamo, sono nove mesi che glielo diciamo, il problema del sovraffollamento delle carceri non lo può affrontare, non lo può risolvere con gli svuotacarceri, con gli indulti mascherati. Ieri, in Commissione antimafia, alcuni magistrati, magistrati che lottano contro la criminalità organizzata, in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata e, da ultimo, proprio in Commissione di Giustizia, settimana scorsa il magistrato Ardita, ha chiaramente detto che lo svuotacarceri che noi porteremo, che voi insistete a portare in aula settimana prossima, è un regalo alla mafia, è un regalo alla criminalità organizzata. Non è un indulto mascherato, peggio ancora, è un vero e proprio indulto. Siamo di fronte ad una giustizia al collasso, una giustizia che non funziona e il fallimento della giustizia è il fallimento suo e di questo Governo, Ministro.